Ciao, come state? Tutto bene? Oggi sono qua che vi faccio questo video sull'allattamento perché oggi non lavoro e do all'asilo quindi ho un po' più di tempo per fare questo tipo di video. È da tanto che volevo farlo però non ho mai trovato il tempo di sedermi qua tranquilla e riuscire a parlare un po' con voi. Volevo fare questo video qua principalmente perché martedì saranno tre settimane che ho smesso di allattare Edo. Poi magari vi faccio un altro video spiegandovi un po' come è stata la mia esperienza smettendo di allattare. Essendo il primo figlio non è stato facile o meglio. Io ho visto che per alcune mamme è la cosa più naturale di questo mondo cioè nel senso il bimbo nasce glielo mettono qua al seno il bimbo inizia già a prendere la tetta così naturalmente. Non è stato così naturale e facile per me e per Edo. Ho fatto il corso preparto nel quale ho conosciuto delle mamme incredibili. Abbiamo ancora oggi il gruppo di Whatsapp. Ci scriviamo tutti i giorni e sono sono stupende. Appunto con questo gruppo qua ho capito che ogni mamma è a sé, ogni bimbo è a sé, ogni esperienza è diversa e l'approccio con l'allattamento per ogni persona può essere diverso. Come credevo fosse io l'allattamento? Io credevo fosse così. Il bimbo si sveglia di notte, piange e io tac attacco la tetta, lui si riaddormenta e lo rimettiamo nel lettino e dormirà subito e invece no. Edo non era così. Il primo approccio che abbiamo avuto all'ospedale appena appena è nato, l'ostetrica ha provato a mettermelo qua pelle a pelle e io ho dovuto provare a dargli la tetta. Mi ha chiesto se volevo allattarlo, gli ho detto di sì e abbiamo provato. Ma, adesso non so il termine tecnico, però diciamo che ho il capezzolo rientrante, so che non è una bellissima immagine. Edo non riusciva ad attaccarsi benissimo. Quindi abbiamo provato per qualche minuto, ma Edo non si attaccava, quindi vabbè abbiamo iniziato a fare altre cose, altre procedure. Primo contatto non è andato bene. Quello che mi ha consigliato l'ostetrica che mi ha fatto il corso preparto, che ha consigliato un po' a tutte le ragazze, è comunque di insistere, nel senso che ci sono alcuni ospedali che ti dicono non riesci ad allattare, ok, partiamo con l'artificiale e basta. Invece se uno ha veramente voglia di allattare, è una cosa veramente che poi viene naturale, nel senso che io dicevo, molte volte ci pensavo perché sapevo della mia condizione del seno, quindi dicevo, se non riuscirò ad allattare, vabbè non importa, darò l'artificiale, non farò un dramma. Però quando Edo è nato non so cos'è successo, quando diventiamo mamma qualcosa cambia, scatta qualcosa, incredibile la natura. Io volevo allattare. Poi vabbè col tempo, qua si apre un discorso a sé, perché comunque col tempo mi sono resa conto che nel caso in cui non fossi riuscita ad allattare non sarebbe stato così drammatico. Ecco, però in quel momento saranno gli ormoni, sarà la novità del bimbo, sarà il nuovo mondo. Io mi sentivo meno mamma perché non lo riuscivo ad allattare. Tanto che io credo che se dovessi mai avere un altro figlio, cosa che spero di dare un fratellino e una sorellina più avanti a Edo, credo che la vivrei, credo che la vivrei in modo molto diverso, molto più rilassata. Nel senso che io mi sono impuntata che dovevo allattarlo e facevo di tutto per poterlo allattare. Ogni volta che io gli davo 60 ml di latte artificiale per me era un fallimento. Però non è così, non è così. Nel senso che oggi, a un anno e mezzo di distanza, posso dire, questo video se io lo rivedrò fra qualche anno quando avrò un altro figlio, che di stare tranquilla, che tuo figlio comunque ti amerà lo stesso, anche se non riuscirai a dargli il 100% del tuo latte, o se gli darei comunque 100% di latte artificiale. Quindi, solo che in quel momento lì non lo capisci. vuoi solo, vedi tutte le altre mamme che danno il loro latte e vuoi darglielo anche tu. E quindi, questa è una cosa che probabilmente ho sbagliato, però è andata così e vabbè. Qual è il consiglio che ci ha dato l'ostetrica al corso preparto? È stato quello di chiedere aiuto alle infermiere, alle ostetriche. Ogni volta che il bimbo piangeva, che vedevo che voleva attaccarsi alla tetta, io schiacciavo il campanello e chiamavo qualcuno per venirmi ad aiutare, perché vabbè, ero impacciata, non sapevo come si teneva il bimbo, non sapevo come si faceva. Io mi sono fatta aiutare tantissimo dal consultorio pediatrico, che veramente c'è stata questa infermiera pediatrica che è stata il mio angelo. Poi ed ho perso un sacco di peso, ci hanno fatto uscire dall'ospedale proprio per il rotto della cuffia, perché ho avuto troppo calo fisiologico e proprio perché non riusciva a prendere tanto il mio latte. Però ci hanno fatto uscire. Però io tutti i giorni dovevo andarlo a pesare, a vedere se stava prendendo peso e lui invece di prenderne lo perdeva. Tant'è che abbiamo dovuto attaccare appunto con un po' di artificiali. Io ho preso questo qua, che è il quaderno degli appunti del corso al preparto, dove appunto mi aveva scritto tutti i consigli che dava l'ostetrica. Il primo consiglio appunto che lei dava, che più il bambino succhia, più stimola la produzione di latte. Quindi bisogna tenerlo attaccato il più possibile in modo da produrre più latte. Il secondo consiglio che lei ci dava era quello di usare quest'olio qua, che è l'olio Bea, vediamo se si vede, ogni fine poppata. Lei ci diceva di prendere un asciugamano, di bagnarlo con dell'acqua calda, fare degli impacchi nel seno in modo da lavare, da lavarlo, e poi passare appunto quest'olio qua. Perché quest'olio qua previene le ragadi. È miracoloso, mi ha aiutato un sacco. Il terzo consiglio che ci dava, che poi vabbè, verrà naturale, nel senso che è una cosa assurda, di bere molta acqua. Io giravo col bottiglione d'acqua, perché ti viene una sete incredibile. A parte la fame, che nessuno me l'aveva detto, che sarebbe venuta una fame da lupi. Infatti ho preso un sacco di chili. Credo di aver preso più chili durante l'allattamento che durante la gravidanza. La quarta informazione, non bellissima, ma questo è, è che la notte stimola la prolattina. Quindi il bimbo si soddisfa di più. Ed è per questo che si sveglia di più di notte e dormirà di più di giorno. Il quinto consiglio è quello di chiedere il tiralatte all'ospedale. Io ho dovuto usare il tiralatte sempre. Praticamente io finivo di allattare Edo, smettevo di allattare Edo, Edo si addormentava. Io prendevo il mio bellissimo tiralatte e mi dovevo tirare tutto il latte che era rimasto, appunto, per suotare il seno e far sì che producesse più latte. Un altro consiglio che ci ha dato, che poi a me in realtà non hanno neanche proposto, è stato quello di non dare l'acqua con lo zucchero ai bimbi appena nati. A meno che non sia il pediatra dell'ospedale o comunque il pediatra del bimbo che dice di farlo, è meglio non farlo. Così mi aveva detto l'ostetrica. L'altro consiglio è questo qua, di prendere queste vitamine qua, che si chiamano Fitomam, e dicevano di prenderne, adesso io le ho prese ma non mi ricordavo più appunto, due al mattino, due al pomeriggio, due alla sera, la prima settimana, dopodiché due al mattino, due alla sera per stabilizzare il latte. Tutto questo per due settimane. Io le ho prese e credo abbiano comunque aiutato, abbiano fatto la loro parte. L'ultimo consiglio è quello di cercare di mangiare comunque tutto, in modo da far abituare il bimbo a tutti i gusti. Tornando al discorso dell'atte artificiale, io mi ricordo che in qualche modo è stata la mia salvezza, nel senso che in alcuni casi è stata la mia salvezza, nel senso che appunto io non avendo tantissimo latte tirato mio, nel senso che io me lo tiravo col tiralatte, ma ne uscivano tipo 30 grammi. Mi ricordo di una volta che mi sono, appunto c'era Edo che dormiva, io ero lì che mi tiravo il latte, stavo tipo un'ora via a tirarmi il latte per farmi uscire veramente 50 ml. Non so che cosa ho combinato, io sono una pasticciona. Ho appoggiato il latte, il biberon con il latte sul divano, non so ho fatto una mossa e è caduto tutto sul divano, madonna, io ero stata tipo lì un'ora senza dormire per tirarmi il latte ed è caduto tutto per terra, tutto sprecato, i miei preziosi 50 ml di latte sono andati sprecati. Vabbè. Comunque, tornando al discorso dell'artificiale, appunto avendone poco, ero obbligata a dargli un po' di artificiale, dargli l'aggiunta di artificiale, anche se per me in quel momento lì era veramente una tragedia, in qualche modo mi ha aiutato. Io mi ricordo che i primi giorni, anzi i primi mesi in realtà, mia mamma ogni tanto veniva a dormire qua da noi, dormiva nell'altra camera per aiutarmi. Io mi ricordo che prendevo Edo e lo portavo in sala, lo allattavo in sala, perché il papà si svegliava alle 6 del mattino, il papà diedo per andare a lavorare e quindi per non disturbarlo io prendevo Edo, lo portavo in sala, mi mettevo sul sofà e lo allattavo. Edo ci metteva poi 30-40 minuti a fare la sua poppata e soddisfarsi. Poi, dovevo fargli fare il rottino. Io non riuscivo a fare il rottino a Edo. Mia mamma lo metteva qua, due pacchette sulla spalla, Edo 5 minuti aveva fatto il suo rottino. Io lo tenevo lì, stavo veramente minuti e minuti e Edo non faceva rottino. Quindi cosa dicono? Dicono di tenerlo così 20 minuti in su nel caso in cui uno faccia rottino. E' bene tenerlo 20 minuti in su. Quindi sono 40 minuti di poppata, 20 minuti in su. Lui nel frattempo si addormentava, lo rimettevo nel lettino, tipo 40 minuti, un'oretta dopo, lui si risvegliava per riprendere la tetta. erano dei momenti in cui ero veramente distrutta, non ce la facevo più. E c'erano delle notti in cui io mi dovevo fare almeno tre ore di sonno, perché ero in after da, che ne so, due notti. E avevo bisogno di dormire, proprio il mio fisico mi chiedeva di dormire, anche perché il non dormire veramente mi ha scombussolato un po' la vita. Io non sono mai stata una grande dormigliona, però non riuscire a dormire almeno due ore di seguito per due o tre giorni veramente ti fa uscire fuori. E quindi grazie a Dio che c'era mia mamma che mi ha aiutato, lei se lo prendeva una notte, se lo metteva in camera con lei e almeno per tre ore io dormivo. Nel senso che sapevo che lei gli dava il suo biberon di artificiale, però mia mamma mi diceva vai a dormire, gli do io il biberon, non importa, anche se prende veramente un biberon di artificiale non succede nulla. In realtà è vero che Dio lui si svegliava e io ero così, si è svegliato, cosa succede? Andrà tutto bene, però sapevo che comunque era con mia mamma e che se c'era qualcosa mi veniva a chiamare, quindi dai in qualche modo mi riposavo. Però credo che sia il momento più bello della nostra vita e ci lo godiamo al massimo in qualunque caso, anche se siamo stanche, siamo un po' nervose, per noi è tutto nuovo. Quello che posso dire adesso a un anno e mezzo di distanza con la mente un po' più lucida e che appunto non ha importanza che sia latte materno, latte artificiale, latte misto, non importa, non è quello che ci fa più mamme o meno mamme. Va bene, e questa quindi appunto è stata la mia esperienza, spero che in qualche modo vi sia stata utile, perché è principalmente per questo che ho fatto questo video qua, perché c'erano tante cose che quando io ho iniziato ad allattare non sapevo, tante cose che avrei voluto sentirmi dire in quel momento di totale smarrimento. Va bene, se vi è piaciuto questo video mettetemi un mi piace, iscrivetevi nel canale così non vi perdete gli altri video. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!